Il caso Lucano 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 di mafia, in primis naturalmente i servitori dello Stato, gli uomini delle forze dell'ordine, ma poi anche coloro che per mano mafiosa o terrorista sono comunque morti, hanno perso la vita. La Mezzia Terme, teatro di uno dei delitti più gravi mai commessi in Calabria nei confronti di un servitore dello Stato, ovvero l'omicidio il 4 gennaio 1992 del sovrintendente di Polizia Salvatore Aversa e della moglie, Lucia Precenzano. Nel giorno in cui si fa memoria della strage di Capaci è stata sede della tappa del Memorial Day, l'iniziativa con la quale il sindacato autonomo di Polizia, SAP, rende omaggio agli uomini e le donne delle forze dell'ordine caduti in servizio e da tutte le vittime della criminalità organizzata. Il Memorial Day fa parte del più ampio cammino della memoria, un percorso itinerante che ha toccato anche a Osta, Trieste ed Udine e che si concluderà il 21 maggio prossimo a Roma, presso l'altare della patria, con lo scopo di rafforzare, condividere ed allargare il ricordo di coloro che si sono battuti contro mafia e terrorismo e fare in modo che esso fosse anche un monito per le giovani generazioni, tant'è che alla tappa Lamettina, presso la sede del commissariato di Polizia, erano presenti anche alcune delegazioni di studenti. Il segretario provinciale del SAP di Catanzaro, Sergio Riga, pone l'accento sul sacrificio di coloro che hanno perso la vita indossando una divisa, da Salvatore Aversa a Pietro Caligiuri e a Paolo Diano, i cui familiari erano presenti alla cerimonia Lamettina. La staffetta alla memoria è una delle tante iniziative che sono state inserite in questo Memorial Day. Abbiamo fortemente voluto la tappa di Lemenza Terme per ricordare le nostre vittime del dovere che sono Pietro Caligiuri, Salvatore Aversa, Diano Paolo e Andrea Campagna. Questo Memorial Day soprattutto ha lo scopo di celebrare tutte le vittime, non solo quelle di mafia, del terrorismo e del dovere, ma anche le vittime di politici, religiosi, tante persone hanno certificato la loro vita, ma anche semplici cittadini che hanno pagato un loro tributo a favore della collettività. Il ricordo e l'esempio, dice il questore di Catanzaro, Amaria Di Ruocco, sono uno stimolo per chiunque svolga un servizio tra i corpi e i reparti delle forze dell'ordine. Già questo è sufficiente per far sì che le iniziative come il Memorial Day, dice Di Ruocco, non restino solo un esercizio, pur utile ma momentaneo, di riaccensione del ricordo. La memoria è una cosa importante per ogni essere umano e quindi benvengano queste occasioni per poter ricordare chi ha dato la propria vita per questo nostro lavoro, perché ha creduto nella legalità, ha creduto nella possibilità di avere un mondo migliore, più giusto, più equo per tutti ed è importante per tutti i poliziotti che sono al lavoro ricordare il sacrificio dei colleghi. Gli aiuta a confermare i loro valori e i loro principi e a donarsi, perché il nostro è un servizio, non è un esercizio di un potere. Il nostro è essere veramente servì, servì di tutti per costruire delle comunità, delle collettività che siano più giuste, delle comunità che siano volte al bene, alla crescita personale, sociale, economica. E dunque come ho già fatto in apertura, tanto più, anzi in chiusura vi ricordo che da questa sera, questa notte anzi andremo in onda, contemporaneamente su Videocalabria, Esperia TV e RT vedrete gli stessi contenuti per il momento culminante delle celebrazioni della festa della Madonna di Capocolonna, dalle 23.30 in Piazza Duomo, il primo collegamento che andrà avanti fino a 1.30 circa, poi collegamento dal cimitero di Crotone prima che inizi la salita verso l'irto di Capocolonna, domattina dalle 5.30 in poi per l'arrivo in diretta del quadro, nel pomeriggio nuova diretta per la messa e la partenza, la ripartenza verso Crotone dell'Icona e la sera dalle 20.30 in poi, fuochi d'artificio, le fasi del rientro della processione di rientro verso la Basilica Cattedrale. Questo è lo spot riassuntivo della diretta, della lunga maratona che vedrà queste tre emittenti insieme e protagoniste per poco o meno, davvero poco o meno, di 24 ore. Un evento televisivo unico. Nel quinto centenario del ritrovamento della sacra effigie della Madonna di Capocolonna e in onore delle solenni feste sentennali, RTI, Videocalabria e Esperia TV seguiranno in diretta i momenti religiosi salienti legati alla fede mariana. Uno sforzo produttivo per portare nelle case di tutti i calabresi immagini e parole di fede. Sabato 18 maggio dalle 23.30 inizio del pellegrinaggio mariano. Domenica 19 maggio alle 6 del mattino solenne liturgia eucaristica dal santuario di Capocolonna. Alle 17 pellegrinaggio di rientro della sacra effigie verso Crotone. Dalle 21 accoglienza del quadro e processione fino alla Basilica Cattedrale. Tutto in diretta, tutto nelle case dei calabresi su RT, Videocalabria e Esperia TV e in streaming in tutto il mondo. Un segnale di unione in nome della Vergine Maria in una regione ricca di risorse ma troppo povera di contenuti. Quindi sulle tre emittenti, sul digitale, 12 RT, 13 Videocalabria e 18 Esperi, poi avete visto, anche perché poi è facile ricordarli, hanno tutte e tre il punto tv come terminale. Sui tre canali sul web delle emittenti potrete seguire a diretta, farla seguire anche dai vostri parenti ovunque essi risiedano. C'è una piccola specificazione, l'appuntamento poveridiano era scritto sullo spot a partire dalle 17 in realtà è dalle 15.30, alle 17 poi inizia la processione di rientro e in realtà, ripeto, si parte un'ora e mezza prima per seguire anche la messa che precede l'inizio del rientro del quadro. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che per stare aggiornati c'è sempre il sito www.tgcal24.it e vi ringrazio per averci seguito. Grazie. Grazie.